Ad Adrano continua la visita pastorale dell'Arcivescovo Metropolita di Catania, Monsignor Salvatore Cristina, iniziata lo scorso 15 febbraio e che si concluderà il prossimo 20 giugno. Dopo l'incontro con il Consiglio Pastorale della Chiesa Parrocchiale San Francesco di lunedì scorso, oggi l'Arcivescovo Cristina ha incontrato gli uomini della Polizia del locale commissariato e visitato i locali di Via della Regione. Una testimonianza di vicinanza, quella del pastore della Chiesa Catanese agli uomini e alle donne del commissariato impegnati quotidianamente nel territorio per garantire sicurezza, legalità e rispetto delle regole. Sto compiendo la visita pastorale, mi permette di conoscere meglio la realtà spirituale, sociale, economica del comune, della comunità adranita. Certamente ogni territorio ha risorse, difficoltà, problemi. Per le risorse siamo lieti e dobbiamo impegnarci sempre più di lavorare insieme proprio per affrontare i problemi e le difficoltà. Credo che c'è un ambito che ci sta particolarmente a cuore tutti i responsabili, gli operatori nel settore sociale, la famiglia e ancora in maniera più speciale le nuove generazioni ragazzi. Quindi vorrei ringraziare il signor Commissario e tutte le persone che qui prestano servizio per questa particolare attenzione e li assicuro anche della gratitudine della comunità ecclesiale di Adrano. E personalmente li accompagno, vi accompagno con affetto e con un ricordo nella preghiera. Auguri. E stamani ad accogliere l'Arcivescovo Cristina c'erano tutti gli uomini del Commissariato Adranita insieme con il questore di Catania, Giuseppe Gualtieri, a fare gli onori di casa e stato il dirigente del locale Commissariato, Giuseppe Middio. È importante che chi opera in provincia, opera per comunità così difficili e così problematiche come quella di Adrano, senta la vicinanza di chi sta al centro, di chi magari sta a Catania e spesso può aprire distratto. Ecco, quale migliore attenzione del nostro padre spirituale, insomma, credo che sia un segnale fortissimo di vicinanza e di affetto. Commissario, lei oggi ha fatto gli onori di casa, qual è il suo pensiero? No, sono orgoglioso di averlo fatto. È la prima volta che mi capita, tra l'altro, di avere due personalità così importanti alla mia destra, quindi non posso dire altro. C'è un messaggio che vuole approfittare e lanciare i suoi uomini anche questa mattina? Che, come ha detto bene il signor Questore, anche l'Arcivescovo, siamo nella mente di tutti, quindi dobbiamo lavorare per il bene comune. Subito dopo la tappa appena citata, il Vescovo si è diretto nelle scuole della parrocchia San Francesco e ha visitato gli ammalati del territorio parrocchiale. Anche per domani, 8 giugno ricco, il programma, alle 17.30, Monsignor Cristina incontrerà i responsabili del Consiglio Affari Economici della Chiesa San Francesco, alle 18.30 le realtà parrocchiali e alle 20 il Consiglio Pastorale del 14esimo Vicariato.